Nel maggio 2012 l'allora vice prefetto di Agrigento, Di Donato, ha emesso un'informativa antimafia nei confronti della società Mediatelle di Agrigento, con sede ad Aragona, ritenendo sussistente il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata. A seguito di tale informativa, l'ex consorzio Asi di Agrigento, oggi IRSAP, ha revocato un lotto di terreno già assegnato alla Mediatelle. La Mediatelle ha proposto un ricorso giuris-edizionale contro la Prefettura, il Ministero dell'Interno e contro il consorzio Asi di Agrigento, tramite l'avvocato Girolamo Rubino, eccependo casi di eccesso di potere, soprattutto per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. L'avvocato Rubino ha dimostrato che il signor Miciche Giovanni, coniuge di una socia, nelle more deceduto, è stato assolto per non avere commesso il fatto, dalla Corte d'Appello di Palermo, con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione, dal reato di 416 bis. Rubino è inoltre opposto che anche il Tribunale di Agrigento ha respinto la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale a carico dello stesso Miciche Giovanni, non ricorrendo la pericolosità sociale del soggetto. Ebbene, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, condividendo le tesi difensive dell'avvocato Girolamo Rubino, ha accolto la richiesta cautelare di sospensione dell'esecutività, fissando la trattazione del merito della controversia nel febbraio del 2016. Si è costituita in giudizio la Prefettura di Agrigento e l'IRSAP, tramite il legale rappresentante Alfonso Cicero.